Ti bastano pochi e semplici gesti per collegare la tua nuova Vodafone Station Revolution e iniziare a navigare. Apri la confezione. Ecco cosa troverai all'interno. Ora puoi iniziare l'installazione. Prendi il cavo DSL con la fascetta rossa e collega un'estremità alla porta DSL rossa dietro la Vodafone Station Revolution. L'altra estremità collegala alla presa telefonica. Se hai una presa con i classici tre fori, devi prima acquistare l'adattatore tripolare. Per collegare il telefono, ti basta inserire il cavo telefonico nella porta TEL1 presente sul retro. Se vuoi collegarti direttamente con il computer, inserisci il cavo LAN con la fascetta gialla. Collega il cavo di alimentazione alla porta Power e alla presa di corrente. Premi il tasto ON-OFF. Ora la tua station è pronta e puoi connetterti in Wi-Fi. Utilizza la password che trovi sulla guida rapida e sul retro della tua Station Revolution. Ora sei connesso alla rete. Il modo più facile per utilizzare la tua Vodafone Station Revolution è attraverso l'app disponibile sugli store. Per connettere il tuo smartphone alla Station ti basterà premere il tasto WPS. Scopriamo insieme le funzioni principali dell'app. Puoi effettuare e anche ricevere chiamate utilizzando lo smartphone come cordless. Personalizzare e configurare la tua rete Wi-Fi. Personalizzare il nome della tua rete. Cambiare la tua password. Monitorare le performance della rete Wi-Fi. E con la Wi-Fi Community potrai connetterti a più di 2 milioni di reti Wi-Fi in Italia e all'estero e vedere quanti e quali dispositivi sono collegati alla tua linea. Buona navigazione con Vodafone. Grazie a tutti.